aveva ragione gemma galgani a uomini e donne emergono nuovi retroscena mentre mantovani punta il dito contro l'ex la fine del matrimonio tra isabella ricci e fabio mantovani di uomini e donne sta ancora facendo discutere sui social network ora emergono anche nuovi retroscena che vanno presi con le pinze va anche detto che in queste ore l'ex cavaliere sembra dare conferme sugli ultimi rumor che vedono isabella nel caos c'è chi ora addirittura è certo di poter dare ragione a gemma galgani la quale non ha mai visto di buon occhio la ricci andando con ordine isabella ha inizialmente annunciato la fine del suo matrimonio con fabio dopodiché l'ex dama del trono over ha parlato pubblicamente attraverso un'intervista per fanpage la ricci ha comunque deciso di non svelare informazioni dettagliate sulla separazione lei stessa ha precisato di non voler dare ulteriori spiegazioni per riservatezza in questi giorni ha anche condiviso su instagram un post in cui ha ammesso di essere dimagrita perché gli ultimi mesi sono stati difficili e complessi a commentare il nuovo messaggio ci pensa in queste ore amedeo venza l'esperto di gossip si scaglia contro isabella di uomini e donne lanciando un'indiscrezione a detta sua la ricci avrebbe investito a dubai e poi abbandonato fabio nel momento perfetto e senza alcuna motivazione valida mi sa che aveva ragione gemma questa i drammaturghi ogni volta perché non racconta che ha investito lì dove si trova credo a dubai e nel momento giusto si è sbarazzata del marito mandandolo via senza motivo apparente no non lo dirà mai perché essere vittima attira più consensi rispetto al ruolo del carnefice